Atteniamoci rigorosamente ai fatti. Ieri sera la signorina Belen Rodriguez, madrina del Festival del Peperoncino, non doveva rilasciare interviste, o almeno così c'era stato riferito dagli organizzatori ed in risposta ad una nostra precisa ed esplicita richiesta. Invece ne ha concessa una. Indovinate a chi? Alla RAI, naturalmente, escludendo le altre emittenti regionali. Così non va bene, non è corretto, specie con chi per dovere di cronaca aveva dato il giusto risalto all'evento, ospitando al telegiornale in diretta il presidente dell'Accademia Enzo Monaco e mandando una inviata diamante per il lancio della giornata inaugurale con il re Peperoncino, il simpaticissimo e irresistibile Gianni Pellegrino. Ma non ci saremmo dunque aspettati due pesi e due misure, tant'è che sempre ieri, quando la troupe di Lacci, operatore giornalista, ha raggiunto diamante per documentare l'attesissimo taglio del nastro, si è trovata addirittura sbarrata la strada di accesso alla piazza della manifestazione e se non fosse stato per l'intervento di un nostro cortesissimo collaboratore non avremmo recuperato neanche un'immagine. Il servizio della collega Tiziana Abbagnato lo avete visto, lo abbiamo mandato in onda, la nostra etica professionale ce lo impone. Avremmo potuto però farne a meno, ma la prossima volta ci penseremo prima di farlo. Intanto buon festival e buon divertimento piccante ai responsabili della Kermess e soprattutto alle migliaia di persone che hanno preso d'assalto la nota località della riviera dei Cedri.